Oggi si affrontano due delle squadre più blasonate della nostra penisola, nerazzurri e bianconeri. È quasi impossibile contare i trofei che vengono messi in campo oggi. Si tratta dello scontro tra due delle società di calcio più popolari in Italia. Tra l'altro, le due squadre possono contare anche molti sostenitori all'estero. Con oltre 200 incontri ufficiali disputati, infine si tratta della gara più forte giocata nel nostro panorama calcistico. Benvenuti al Dembio d'Italia. Giuseppe Miazza è uno dei singoli di Milano, un gigantesco anfiteatro che non teme rivale. Dovrebbe in teoria trattarsi di una partita amichevole, ma visti i protagonisti in campo direi che possiamo aspettarci qualcosa di più. Sì, beh, non posso dire di essere estraneo alla sensazione, Fabio. Sono partite che dal punto di vista del risultato lasciano il tempo che trovano. Eppure, come atleta, hai sempre una molla che ti scatta dentro. Non puoi perdere per non adottarti alla sensazione della sconfitta, ma soprattutto non puoi che vincano i tuoi rivali di sempre. Diamo il via alla partita. Caviar Sanetti, Scodella in avanti. Bel pallone. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Pallone lungo, in verticale. Prova a scalaccare avversari con una palla lunga. Palla allontanata senza troppi complimenti. Ibrahimo, inizio. Samuel. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Figo. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Tira. Emerson. Sulla destra. Hanno ottenuto un fallo laterale. Dejan Stankovic. Caviar Sanetti. Passaggio sulla destra. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. L'arbitro è stato chiaro. Questo è l'ultimo avvertimento, o lo smette o si becca il cartellino. Ora sa di essere marcato a vista. Un altro fallo e potrebbe vedersi sventolare in faccia un cartellino. La carica agonistica va bene, ma non deve esagerare. Prova alla verticalizzazione. Niente di fatto, azione interrotta. L'estremo difensore, la calcia lunga. Cercano un'azione veloce. Gioca con un pallone lungo. Arriva Ebrahimovic, eccolo. Azione fallosa, nessun dubbio. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina. Viva! 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 Paversa Nitti fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Figo, circa spazio per l'affondo. Ibrahimovic, Dejan Stankovic, di forza, lungo passaggio in avanti. Veron commette un'infrazione prontamente sanzionato dall'arbitro. La gioco in profondità. Può provare splendida l'azione del portiere. Che parata, certo non un intervento di routine. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Forse nemmeno i suoi compagni. E va un salvataggio molto efficace. Adriano. Figo. Ibrahimovic. E c'è il gol della Juve. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero con fusione vincente in pochi secondi. Con il risultato che abbiamo visto. Iniziamo. Grazie a tutti. E il risultato si sblocca, 1-0. Dopo questo gol i prossimi minuti saranno fondamentali per capire che direzione prenderà la gara. Bisogna rimanere sul pezzo e non far ripartire subito gli avversari. Libra di Movic! Tiro davvero da dimenticare. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Sulla fascia in profondità. Palla verso il centro dell'aria. Fallo è anche piuttosto evidente per la verità. Per questa volta l'arbitro lo grazia, ma lo ridarguisce molto energicamente. L'arbitro l'ha guardato e gli ha fatto capire che al prossimo fallo non sarà perdonato. E penso che anche l'allenatore dovrebbe parlargli. Cercare di farlo ragionare, perché rischia di beccarsi un cartellino se continua a comportarsi così. Ahiai! Stanno correndo rischi davvero inutili! Paversa Nitti. Passaggio filtrante per Ibrahimovic. Palla tra le linee. Ibrahimovic non ha trovato il tempo giusto per il suggerimento. La gioca sulla destra. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con il calcio di punizione per gli avversari. Brutto l'intervento. Adesso inevitabile. Arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. E riceve un'ottima posizione. Legão! Parata di Buffon! È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza però, va bene a provarci. Veyron decide di battere corto. Cerca il secondo palo. Pericolo. Pericolo. Zambrotta. Si appoggia al portiere. Samuel. C'è la palla lunga. È in avanti. L'avversario ha avuto la meglio. Balzaretti. Dejan Stankovic con l'intercetto. Primo tempo che si conclude dunque qui. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il centrocampo, che ha dato grande aiuto alla difesa e ha sempre sostenuto le azioni degli attaccanti. 1-0 dopo il primo tempo. Inizia adesso il secondo tempo. Il gol ha cambiato le carte in tavola. Adesso ci si attende una gara più aperta e speriamo divertente. Samuel. Dejan Stankovic. L'inter. Cerca spazio per affondare. Turam. Zebinat. Zebinat. Cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Verón. Parata di Buffon. Salva la sua porta. Non c'è che dire. Il portiere è rimasto lucido e ha reggito bene. Cerca il numero. Vediamo se crossa. Letta perde l'equilibrio. Fa avanzare la manovra. Samuel. Tocco morbido. Vuole sfruttare lo scatto. E' il tiro. Zero. Ottima la conclusione. Ottima giocata. Si è coordinato bene e ha effettuato una buona conclusione. Iniezione di energia proveniente da bordo campo. Chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Vedo vari uomini, Luca, che rimangono alti anche quando sono senza barra. Sì, cercano l'occasione per ripartire in velocità e arrivare subito in porta. Sono quindi pronti a lasciare spazi in mezzo e prendersi qualche rischio. Difesa ancora decisiva. Tira. Cerca il passaggio profondo. Cerca il tiro. E' insattano. L'antaggio di due gol. La partita si mette in discesa. Ha fatto il cucchiaio. Ha trovato un gran gol. La conclusione è stata bella. Ma è l'idea di giocarla così. Perché non è così a stare. La partita si mette in discesa. La partita si mette in discesa. L'Inter ha optato subito per un altro cambio. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Non riesce a mantenere il possesso. Cambiasso. Zambrotta. E con questa la palla. Scatta verso il pallone. Tocca! E il portiere ci mette. Un palo globuloso! Zemaria. La qualificazione sembra in cassaforte. È probabile che adesso pensino a conservare il risultato piuttosto che a macinare il gioco. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. È libero di creare pericolo. Ibrahimović. Il suo pallone è morbido. Non impensierisce la difesa. Provano a ripartire da dietro. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Allarga il gioco a destra. Ibrahimović. Cerca lo spunto. Grande intervento. Vale come un gol. Cordoba. Lungo passaggio in avanti. L'Inter sembra un po' corto d'idea in questa fase. Cercano di aggirare la difesa con la loro rete di passaggi. Ma è una strategia che non sembra funzionare. Del Piero. Oggi è andato a segno. Va via di forza. Alza la palla in profondità verso un compagno. La allontana con forza. Zambrotta. Zambrotta. La mette in aria. Il cross attraversa tutta l'area da parte a parte. Lo gioca all'indietro. Del Piero. Che salvataggio da parte del portiere. Direi che il portiere è stato impeccabile. Difficile fare meglio di così. Zibinà si è fatto trovare pronto. La lavagna luminosa indica due minuti di recupero. Brutto intervento. Fuori tempo. Calcio di punizione. Samuele. Dejan Stankovic. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. E l'arbitro con l'assistenza dei guardaline dice che c'è stato offside. E l'arbitro chiude qui la partita. Una vittoria convincente. Una prestazione fantastica da parte di tutta la squadra. Oggi è andato tutto per il verso giusto. E tu cosa ne pensi della partita Luca? Anch'io ho partecipato a dei derby.